Piedraverano Oltre l'anno scorso hanno organizzato una mostra fotografica Quest'anno stanno organizzando questo villaggio culturale Li voglio ringraziare singolarmente perché ci sono tre di loro che vivono a Roma Lavorano a Roma E ogni 15 giorni stanno venendo a Piedraverano E si stanno impegnando molto già da circa 6 o 7 mesi per organizzare questo evento E sono Brunella Greco, Angelica Carlone e Giuseppe Di Robbio Poi ci stanno altri amici di Piedraverano Tra cui Salvatore Caggiano e Anna Lamotta Che stanno collaborando insieme a loro E inoltre ci sta anche la supervisione di Pino Angelone Che diciamo che lui coordina un po' tutte le manifestazioni che organizziamo Io gli voglio fare un grosso in bocca al lupo Perché loro ci stanno impegnando, ci stanno mettendo il cuore, la passione Stanno perdendo il tempo per venire qua, stanno facendo dei sacrifici E gli voglio solo dire che io come assessore agli eventi Il sindaco e tutta l'amministrazione comunale Gli siamo vicini e gli saremo sempre vicini Anche per l'anno prossimo e per altre eventuali manifestazioni Che loro hanno sicuramente organizzeranno anche l'anno prossimo Brunella Greco, una delle anime di questa associazione Pietralab Ad un anno di distanza dall'ultimo evento Quest'anno si ripete, casomai sicuramente, con lo stesso successo Sì esatto, il villaggio culturale nasce sulla scia della mostra fotografica Come eravamo, mostra fotografica organizzata lo scorso luglio dal gruppo Pietralab E che ha avuto un enorme successo di pubblico Quest'anno Pietralab ha in effetti elaborato un progetto molto più ambizioso Ossia trasformare il proprio paese, Pietraveirano, in un laboratorio culturale a cielo aperto Che cosa significa? Significa che ci saranno una serie di manifestazioni Che metteranno in campo la musica, la danza, la poesia, la lettura E atte a valorizzare le nostre tradizioni ma anche la nostra storia Faremo infatti rivivere un momento molto importante del 400 che si è vissuto a Pietraveirano Ossia il matrimonio della famiglia Marzano feudatari Della famiglia molto importante per il periodo feudatari appunto del nostro paese E dobbiamo dire che il motivo conduttore che ha portato alla realizzazione di questo evento È stato l'amore Intanto perché l'amore, come ben sappiamo, è la forza motrice della vita di ognuno di noi E poi perché soprattutto per alcuni, diciamo, delle persone che fanno parte del gruppo Pietralab Che tra l'altro poi alcuni di noi vivono per motivi lavorativi lontani dal proprio paese Questo è stato, diciamo, l'amore proprio per il proprio paese È stato il motivo conduttore che ha fatto sì che si realizzasse questo evento Analizzeremo tra l'altro l'amore grazie anche alla collaborazione con enti e associazioni Come ad esempio mi viene in mente il liceo scientifico di Vairano Che ha realizzato delle video interviste per far capire l'amore nel passato Come si viveva la fase del corteggiamento nel periodo, diciamo, dei nostri non-nonni Dei nostri genitori e come si vive invece adesso all'epoca dei social network Sicuramente ci sono una serie di iniziative che sono davvero interessanti E sono itineranti nel percorso del villaggio culturale Quindi noi vi aspettiamo sabato 20 e domenica 21 maggio alle 17.30 Presso la piazza Cesare Battisti E niente, vi aspettiamo Salvatore Gaggiano In seno a questo evento ci sarà anche un'escursione Sì, l'escursione è stata curata dall'Associazione Tre Baglioli della Storia E si evince che quest'anno è capitata insieme al villaggio culturale Domenica 21 maggio È un'escursione che è il quinto anno di iniziativa E ha riscosso a un successo sempre maggiore e sempre crescente nel corso della sua manifestazione Fondamentalmente l'anno scorso si è arrivati a un numero di ben 250 partecipanti Per lo più dal casertano e dal napoletano Quindi un numero di persone importanti che veniva dall'interland turistico Che si cerca di portare a Pietraverano per il Teatro Tempio E anche quest'anno si ripete con il consueto orario di raduno alle ore 14.30 Nel convento di Santa Maria della Vigna a Pietraverano Domenica 21 maggio Si inizierà a valutare questa escursione E la particolarità del suo tragitto è che cerca di far riscoprire anche parti nascoste Del paese alto che non sono particolarmente conosciute Come può essere per esempio il Teatro Tempio Quindi l'idea di base che è sempre stata la forza di questa escursione È stata quella di agganciare dei beni belli ma poco conosciuti Ad un bene su cui il marketing turistico ha già fatto molta presa E questo ci permetterà di andare nella parte del centro storico meno conosciuta Con dei ciceroni che spiegheranno le peculiarità principali di quest'area E da aggiungere e segnalare che la difficoltà di questa escursione È fondamentalmente molto bassa È adatta anche a un pubblico non specialistico di escursionisti Anche a famiglie o persone non particolarmente allenate fisicamente C'è la possibilità quindi di visitare una parte del centro storico E per chi vuole rimanere dopo può seguire anche gli spettacoli di Pietralab Organizzati nella parte alta del paese Che possono essere un magnifico corredo a seguire dell'escursione Angelica Carlone E sappiamo che per questo evento c'è stata una collaborazione massiccia Sì, di tante organizzazioni e di tanti enti che ci hanno dato una mano In la realizzazione di questo progetto In particolare devo ringraziare l'amministrazione comunale Capitanata dal nostro amato sindaco Francesco Zarone E l'assessore al turismo, sport e grande eventi Rodolfo Porcelli E grazie anche alla supervisione del professor Giuseppe Angelone Che abbiamo realizzato questa manifestazione di villaggio culturale Che si terrà il 20 e il 21 maggio a Pietraverano nel centro storico Questo evento è stato possibile grazie alla realizzazione E alla collaborazione di tante organizzazioni E' doveroso quindi ringraziare l'istituto comprensivo Garibaldi Montalcini di Pietraverano Che grazie alle professoresse De Felice e Vallone Hanno redatto una guida turistica Per offrire ai visitatori la possibilità di poter posteggiare Nelle cinque postazioni di Cicerone E poter ascoltare i ragazzi delle scuole medie Che diranno un resoconto storico dei vari posti Inoltre è importante ringraziare anche il liceo Leonardo da Vinci di Vairano L'indirizzo musicale che nella giornata del sabato Dove ci sono le guide Cicerone I musicisti interpretano dei bani di musica classica Nella giornata del sabato sempre dalle 19.30 alle 21.30 Invece la domenica ci saranno i musicisti dell'Accademia Sonorica di Vairano Scalo Che si esibiranno anche loro dalle 19.30 alle 21.30 Ci saranno anche altre associazioni Quale il gruppo La Scuola Karate Capitanata da Francesco Ruzzo Che si esibiranno in un duello d'amore E l'intervento anche di altre associazioni ONLUS Quali La Croce Rossa di Petraverano Il gruppo E-Majorsi di Vairano Patenora Diversamente Abili di Cagianello E importante anche l'evento della domenica Tra i baglioli della storia Di cui già ha parlato Salvatore Caggiano Diversamente Abili di Caggiano Diversamente Abili di Caggiano